rieccoci qua buongiorno a tutti con leggi che ti passa oggi parliamo di dieta questa è pasta pasta vuol dire carboidrati vuol dire energie immediatamente disponibili attraverso lo stomaco attraverso l'alimentazione i carboidrati si trasformano subito in glucosio che ci danno immediatamente una sferza energia questo è un pesce energie di tipo proteico proteine che lentamente vengono assorbite e che ci aiutano a costituire il nostro tessuto i nostri muscoli l'edificio del nostro corpo questo è olio si tratta di grassi i grassi sono indispensabili sebbene in modesta quantità per contribuire alla nostra salute perché proteggono le cellule avvolgendole con un film lipidico questa è una carota vuol dire sali minerali i sali minerali sono indispensabili alla vita ne servono pochi pochi milligrammi al giorno ma sono necessari questa è l'acqua come tutti sappiamo non possiamo vivere senza l'apporto di acqua cosa c'entra tutto questo con la letteratura con la nostra rubrica che si chiama leggi che ci passa bene c'entra perché se io sono vivo e voi siete vivi e perché negli ultimi giorni avete 8 carboidrati cioè energie immediatamente disponibili che vanno nel sangue ci danno forza avete assunto proteine animali o vegetali ceci lenticchie quello che volete avete introdotto dei grassi avete mangiato insalata verdura frutta per i sali minerali e avete bevuto acqua il vostro e il nostro organismo si è tenuto in vita grazie a questi cinque fondamentali prodotti carboidrati proteine grassi sali minerali e acqua il nostro edificio biologico vive grazie a questo ma noi abbiamo anche un edificio mentale abbiamo anche un pensiero un cervello che ci fornisce quotidianamente energia dialettica energia mentale a tutti i livelli e anche energia emotiva un cervello che garantisce capacità di linguaggio di ascolto di interpretazione leggiamo ascoltiamo deduciamo io a volte intuiamo ebbene questo cervello questa vita mentale la trattiamo lo stesso modo che usiamo per la vita biologica diamo la nostra vita mentale la stessa quantità e la stessa tipologia di nutrienti che diamo al corpo biologico non lo so è quello che cercherò di tratteggiare in questi minuti la nostra vita mentale ha bisogno di nutrimento esattamente come il nostro corpo biologico e ha bisogno di un nutrimento alto al tempo stesso identico a quello del corpo biologico un nutrimento variegato abbiamo bisogno di carboidrati per la mente ma cosa sono i carboidrati per la mente perché che cos'è per la mente l'energia immediatamente disponibile i romanzi pensiamo a steinberg la valle dell'ete i romanzi sono energia narrativa che assorbiamo in maniera immediata le emozioni le vicende narrate sviluppate nel corso della lettura entrano in circolo vivono per noi si fanno vivere esperienze emotive esperienze affettive paura angoscia amore stradimento tutto quello che accade viene vissuto immediatamente empaticamente attraverso i personaggi letterari ma il nostro organismo biologico abbiamo visto ha bisogno anche di proteine l'edificio deve essere strutturato muscoli edificio corporeo anche la nostra mente ha bisogno di essere strutturata con elementi analoghi a quelli proteici e che cosa sono questi elementi analoghi agli ingredienti proteici i saggi i saggi forniscono alla nostra mente struttura organizzano il pensiero danno delle posizioni e danno delle interpretazioni al sapere e alla conoscenza un saggio come il codice dell'anima di james hillman svolge benissimo questa situazione si organizza il pensiero su un tema su una materia i saggi sono di ogni tipologia e di ogni tipo di pensiero così come i romanzi sono molti svariati ma abbiamo parlato anche di grassi di olio cioè gli elementi lipidici che ci aiutano a proteggere le cellule non ne occorre tanto ma ne occorre è essenziale un'alimentazione senza grassi sarebbe un'alimentazione carente e pericolosa quindi che cosa è per la mente l'equivalente dei grassi sono quei libri che hanno la capacità di funzionare come scorta i grassi nel nostro corpo servono a proteggere le cellule ma al tempo stesso vengono anche accumulati diventiamo un po grassottelli se esageriamo con i grassi ma quel grassottello è una riserva prevista dalla nostra specie per far fronte eventualmente a momenti di carestina ci sono dei libri che possono essere considerati come dei depositi per il futuro i libri d'arte le biografie di michelangelo per esempio il libro di filip d'averio sulla sull'arte sui musei ecco non hanno forse una immediata necessità di utilizzo ma in un momento di carestia possono tornare alla mente questi testi l'arte l'energia che fornisce l'arte e darci importante nutrimento sollievo nel pensiero poi abbiamo parlato dei sali minerali i sali minerali sono l'equivalente dei testi brevi per la mente i sali minerali sono necessari in piccolissima quantità pochi milligrammi un po di verdura un po di frutta al giorno i testi brevi svolgono questa stessa funzione possono fornire importare nutrire importanti funzioni del nostro organismo mentale e possiamo sceglierli tra gli aforismi gli aforismi di oscar wilde gli aforismi di ennio flaiano fondamentali gli aforismi della rochefoucault di carl krauss oppure le poesie le poesie di vislava cimbosca le poesie gli aforismi sono piccoli oggetti letterari che possono essere piruccati come quando si mangia un rappanello ma fanno un importante lavoro danno quello specifico contributo essenziale alla nostra vita mentale poi abbiamo detto il quinto elemento l'acqua indispensabile l'acqua e qual è il corrispettivo dell'acqua nella dieta letteraria non è neanche un libro non è neanche un testo e l'ascolto come beviamo acqua che scorre in noi dovremmo lasciare scorrere in noi le voci del mondo le conversazioni le chiacchiere gli i conversari le amicizie che si basano su allegre discussioni ecco ascoltare la voce del mondo e farla fluire in noi per armonizzarci con il resto del mondo carboidrati proteine grassi sali minerali acqua romanzi saggi libri d'arte o biografia poesie o aforismi e la voce del mondo questo per darci una piena e matura vita mentale sana vita mentale come è sana la vita dell'organismo grazie